Allora abbiamo il selettore di tiro per mancini, abbiamo lo smontaggio del caricatore per destri e per mancini e se uno preferisce impugnare da sotto, poi si esegue la chiusura del caricatore dell'ossuratore Don't Open e per eseguire lo smontaggio si vuota, si porta in extra corsa la figura, si smonta la stagio, si porta in extra corsa la condizione e si smonta completamente il caricatore e si esegue il contaggio della canna Per completare il contaggio della canna si può portare in questa condizione di scienza Comandi!